Chi giura con noi? Giura per sempre! Sotto copertura, sei costretto ad azioni inconfessabili. Andassene! Marchio è un infiltrato, sai rischi che corre. Marco non è denoscia, mi ha salvato la vita prima a me e poi a mio passo. E quando sei all'inferno... Non far saltare tutto. ...puoi solo sprofondare. Ti faccio un po' contata, Anza. Io non c'ho niente da nascondere. Sempre più giù. Ma chi sei tu? Fra i tormenti della coscienza. Io non lo so se ce la faccio tant'è avanti. Fino a guardare il diavolo negli occhi. Io mi sono sempre fedato di te. Che cosa gli volete fare? Ma qualcuno dice che ho sbagliato. Solo. Prima assoluta. Mercoledì 21.10. Canale 5.